L'esercito italiano festeggia i 157 anni della Costituzione e celebra anche il centenario della vittoria nella Grande Guerra. Un doppio anniversario importante sentito quello festeggiato a Milano a Palazzo Cusani, sede militare del Terzo Corpo d'Armata, in collaborazione con il quartier generale della Nato, N.R.D.C. di Solbiato e Olona, che ha inviato anche diversi rappresentanti. Una cerimonia suggestiva e intensa alla presenza di numerose autorità civili e militari, resa ancora più emozionante dalla passerella dei militari con le divise storiche. Un tuffo nella storia dell'esercito, ma anche e soprattutto dell'Italia negli ultimi 157 anni, ricordando il grande contributo che i nostri uomini e donne in divisa hanno sempre garantito e continuano a garantire in Italia e all'estero, con l'obiettivo di portare sicurezza e riportare pace e stabilità nelle terre martoriate dalla guerra. Un tuffo nella storia ricordando quei ragazzi del 99 che hanno combattuto al fronte per regalare ai posteri un paese libero e unito. Ma durante la cerimonia sono stati ricordati anche i tanti interventi che, dopo la fine del secondo conflitto mondiale, hanno visto i militari scendere in prima linea. Sempre pronti e presenti in caso di calamità naturali, con la partecipazione sui teatri dei terremoti, delle frane, delle esondazioni, ma anche nelle strade e nelle piazze. Fondamentale è la presenza dell'esercito italiano all'estero e al fianco dei paesi amici, dal Kosovo al Libano sempre in prima linea per riportare pace e aiutare le popolazioni locali a ricostruire il loro futuro. Quando il paese ha bisogno l'esercito c'è e risponde. È il messaggio inviato dai tanti intervenuti, con la lettura anche di una missiva inviata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che oltre a ringraziare i militari per il loro importante e prezioso operato, ha avuto parole di plauso anche per i loro familiari, che sostengono gli uomini e le donne in divisa nel loro dedicatissimo operato, che li porta spesso a veder sacrificare famiglia e affetti.